Il Ministro della Vorisa lo vediamo come ponte nei confronti di questo evento mondiale, il Sfor 2015, che vede come tema nutrire il pianeta e ci siamo candidati a livello italiano, non solamente ligure, crediamo di avere carte in regola e stiamo attendendo il risultato di questa nostra candidatura, ripeto, di intesa della regione Liguria. È un tema che a mio avviso vi verrà coniugato e invito tutti quelli che hanno la possibilità a partecipare a varie sessioni in quattro aree tematiche, che vedranno il Professor Mattiaci per quel che riguarda l'economia, il Professor Conio per quel che riguarda la salute, il Professor Petrillo, il Professor Morgillo per quello che riguarda il costume e la modernità del messaggio, gli ospiti internazionali sull'Empi del sabato mattina sulla dieta mediterranea, che è l'evento di capitalizzazione, dove avremo il Vice Ministro Liveri insieme al Ministro Esiziano, l'Ibanese, la Presidenza degli Spagnoli. Insomma, abbiamo questa platea, direi, di attori istituzionali.